Renew Europe è la terza forza al Parlamento europeo, lo deve rimanere. Per rimanere lo deve fare un ottimo risultato nei grandi paesi, per una ragione matematica semplice e leggono più seggi. Abbiamo un bisogno fondamentale di una fortissima rappresentanza democratica, liberale, riformatrice, centrista dall'Italia e non ci sono 3.000 soluzioni. Noi aspichiamo che le forze che guardano a Renew Europe in Italia facciano un accordo, facciano una lista comune, quindi io auspico, noi auspichiamo che Pia Europa, Azione, Italia Viva e le altre forze, le associazioni liberali democratici europei, l'associazione Tempi Nuovi, tutti coloro che guardano alla costruzione di una forza centrale in Italia facciano un accordo per fare una lista comune alle europee perché darebbe più forte a Renew e toglierebbe seggi all'estrema destra a partire da Meloni.